Trionfo nei padroni di casa, allo stadio olimpico grande Torino termina 2-0 il match tra Toro e Samp Andiamo a vedere cosa è successo nei dettagli, una Samp che ancora non convince Un saluto a tutti gli amici del corner Samp Doriano, prima di iniziare vi ricordiamo come al solito di iscrivervi al canale Se i contenuti vi piacciono, mettete mi piace al video e ogni mercoledì sera ci trovate live sul nostro canale Twitch Quindi qualora lo vedate ci trovate per parlare di questa Samp che davvero ci fa scoprire modi nuovi di arrabbiarsi ogni settimana Questa settimana due o tre volte, due sono già passate, manca solamente la terza con il Lecce nella giornata di sabato Andiamo a vedere cosa è successo ieri sera, una Samp che scende in campo probabilmente con questo 3-5-2 Un po' inedito ma ci si aspettava qualche cambio da parte di Dejan Sankovic Lui che da quanto è arrivato ha cambiato spesso modulo, sistema di gioco Quindi poteva essere una chiave di lettura interessante di questa partita, non l'è stata per niente Nel senso, è una Samp che ha fatto ancora una volta fatica a costruire il gioco Ancora i centrocampisti non sono venuti in contro, non hanno dato una grande mano Diciamo che la fase di impostazione della Samp, come al solito, è inesistente, è nulla C'è solamente il mediano che da solo non può fare grandi cose, quindi si ricorre spesso al lancio lungo E come ben sappiamo, come abbiamo visto anche dalle partite, non porta assolutamente a risultati ottimi E cosa è successo ieri nel Samp? Che ha provato a sfruttare gli esterni, come normale che sia Quando usi un modulo a completare 5-2 Dall'altra parte abbiamo un Torino che ha delle qualità Che secondo me ha dei giocatori veramente molto molto interessanti Il risultato di questo è che fai veramente molta fatica a tenere il pallone Il Torino è una squadra che sicuramente ha delle qualità, come già detto Però qualche difetto lo ha La concentrazione nei 90 minuti è una squadra che ha perso veramente tanti punti negli ultimi minuti di gioco Vedi la partita con Sassuoli in cui, buongiorno, che ha fatto una partita incredibile Davvero uno dei migliori in campo di quella partita Sbaglia una cosa e prende gol e perde la partita al Torino Quindi era una cosa su cui puntare secondo me questo è il Torino Provare a mantenere la partita viva per poi provare negli ultimi minuti a cercare il gol Cosa che alla fine la Samp è venuta fuori forse nella seconda parte di gioco Però abbiamo visto veramente una Samp molto molto timida E questo ha portato alla sconfitta per 2-0 Il primo gol arriva davvero in una maniera epocale Come al solito si perde palla, riparte il Torino L'azione che nasce sulla sinistra del Toro, quindi alla destra della difesa della Sampdoria Converge all'interno e poi arriva questo tiro di Radonice Se non ricordo male Quello che non mi è piaciuto è il comportamento ovviamente del centrocampo Ma della difesa in particolare di Tommaso Ugello Perché cosa succede? Gli arriva addosso forse lo stesso Radonice o comunque un altro giocatore del Torino Tommaso Ugello come se fosse una piuma Si fa spostare in una maniera Io vorrei mettere i video ma per problemi di copyright come ben sapete non si può C'è Tommaso Ugello che rimbalza su questo giocatore E torna indietro ridicamente lasciando un buco Così Radonice ha potuto andare al tiro 1-0 Toro E la Samp che nel primo tempo è stata molto molto timida Nel secondo tempo lo è stato ma col cosino ha provato a fare Nel primo tempo qualche cross di Ugello Che ieri secondo me è uno dei peggiori in campo Se non il peggiore davvero osceno Tommaso Ugello Provava a mettere questi cross Mai lunghi ragazzi Una Samp che non riesce a fare un cross Una Samp che non riesce a mettere un cross oltre il primo palo Ed è una cosa inspiegabile per una squadra di Serie A Specialmente dalle palline attive, specialmente dai corner Ed è una cosa che ci deve far preoccupare E anche molto Poi Occasioni di Montevago Comunque Colpo di testa sto parlando Comunque Delle azioni Niente di che Diciamo Nel secondo tempo il Torino piano piano esce Un'occasione E poi dopo questa occasione Parata da Udero Che si butta alla sua sinistra Arriva il gol del raddoppio Con Vlasic Che è libero di fare quello che vuole Nell'area di rigore Arriva il pallone a Vlasic Omar Colley sta lì a guardarlo Vlasic era in mezzo a tre Ed è una cosa che non si può fare Essere a girarsi in mezzo a tre Lui prende Si gira Così Subito Come se stesse giocando contro una squadra di prima categoria Colley lo sta a guardare Va direttamente sul secondo pallo Udero non ci può arrivare Quindi 2-0 per il Torino E lo stesso Udero Si incazza di brutto Si era guardato la posizione di offside Di Voivoda Cosa che non era Quindi Gol assolutamente regolare 2-0 Torino Espulso Dejan Stankovic E qui Vorrei fermarmi un secondo Stankovic Ha detto che Ha detto qualcosa in Serbo Comunque ha comunicato Con Radonice Perché c'era Thomas Ehrinkon A terra E quindi voleva che il gioco si interrompesse Non ho ben capito Se poi l'azione Che ha portato al gol Era proprio quella a cui si riferiva Ma Non c'è Il discorso è Bene da una parte Perché significa che Al tuo allenatore Interessa Cosa che è Marco Giampaolo Ultimamente Marco Giampaolo Lo stavamo vedendo Male Perché Devi avere controllo Della situazione Devi Cercare di leggere la partita Nei momenti Ci sta a incazzarsi Perché comunque Sappiamo bene Il carattere di Dejan Però Diciamo che Poteva leggere Molto meglio La partita Fai molta fatica Torna al 4-3-1-2 Che è un modulo Che secondo me Può portare a qualcosa È il modulo Con cui è costruito La squadra Perché alla fine Questa è una squadra Costruita per Marco Giampaolo È una squadra Costruita per il 4-3-1-2 Quindi Poteva essere un rimedio Questo Passare al 4 dietro Al 3 di centrocampo E inventarti qualcosa Solo davanti Oppure Se proprio devi Al 4-2-3-1 Modulo che hai usato Spesso Mancava possetto Mancava la list Però qualcosa Ti poteva inventare Magari mettendo anche Dentro quella Poi con i cambi Non si è cambiato Più di tanto Però Quello Che mi ha fatto Pensare molto Di Dicchi Sono le proprime Di post partita In cui Ha spiegato L'episodio Dell'espulsione Ma ha detto Delle cose Inecepibili Ha parlato Delle dimissioni Il problema Se sono io Sono pronto a levarmi Non va bene Sono discorsi Che non puoi fare In un momento Del genere Devi cercare Di trasmettere Serenità ai ragazzi Anche se è un momento così Devi cercare Di trasmettere Serenità Perché sei il mister Devi cercare di Gestire Al meglio La situazione Non Agitare ancora Di più le acque Oggi A Bogliasco Nel centro sportivo I giocatori Sono stati accolti Con questo Serenità Indegni Capitolo tifosi Non penso Che ci sia Da aggiungere qualcosa Cioè Il 1400 A Torino Ha un cantato Dal primo Al 93 Quindi Davvero Spettacolari Gli unici Che ci sappiamo Ovviamente Appuntualmente Siamo noi E Anche ieri Davvero Tanta 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 Roba Abbiamo ricevuto In complimenti Anche dallo stesso Dejan Quindi Noi davvero Siamo l'ultimo Dei problemi Fischi Giustissimi Per quanto mi riguarda Avrei già fischiato La squadra Dopo la partita Con la Fiorentina Per Allora Nella partita Con la Fiorentina Secondo me Hai giocato Molto peggio Rispetto a questa Perché Nella partita Scorsa Hai proprio Visto Una squadra Che non Ce l'hai neanche provato Con la Fiorentina Sei entrata in campo Ok Oggi Pembo Basta Smetti di giocare Cosa che non hai fatto Con il Torino Si è andato in difficoltà Sì Però Quando Stankovic dice Che questa squadra Ha dato il massimo Il massimo no Però È vero che ci hai provato Ci sono stati Cinque minuti In cui hai tenuto Il Torino Nella sua metà campo Hai provato a tirare Nel secondo tempo Due o tre cose le hai fatte Occasioni molto timide Niente di serio Però Comunque ci hai provato Questa sottolinea Le lacune Che ha la Samp Sottolinea Quello che manca Ieri si è operato Alla caviglia finalmente Harry Winks Che doveva essere Il giocatore Che avrebbe dato la scossa A questa squadra Speriamo che lo possa essere A partire da gennaio Dovrebbe tornare proprio In questo mese Quindi Speriamo Adesso L'ultima partita Prima della sosta Con il Lecce E sarà Cruciale Cruciale Perché Il Lecce è una squadra in forma Una squadra che ha vinto 2-1 Con l'Atalanta Turnover Quello che volete Ma Quello che abbiamo visto Ho letto Forse un messaggio di Lele Dal gruppo di Beninate Molto bello Se non era di Lele Ti chiedo scusa Lele Però Ha messo a confronto Diverse squadre La Cremonese Fa una partita incredibile I difensori Si mangiano gli attaccanti Del Milan Piuttosto di non farli segnare 0-0 Un punto per la Cremonese Chapeau Lo Spezia Contro l'Udinese Fa una partita Secondo me Preparata molto bene E porta a casa Un altro punto 1-1 Al termine del match Poi Il Lecce appunto Vince Do a 1 Con l'Atalanta Ragazzi Zafata Non poteva prendere il pallone Che aveva Tre difensori Del Lecce Quello che manca La Samp È la voglia Per questo I fischi sono giusti La Serie B È imminente Ormai bisogna Metterci in testa È una squadra Costruita Per andare in B Speriamo Spero di sbagliarmi Però Questo non me lo togli Da la testa Nessuno Quindi Quello che possiamo fare Noi come al solito È andare allo stadio E cercare Di aiutare La Samp In anche In momenti Come questi Iscrivetevi al canale Lasciate un mi piace Se il video vi è piaciuto Ogni mercoledì sera Live su Twitch Da Mattia è tutto Da Corner è tutto Sempre a Forza Sani